pizzeria i 4 20 contro sport time 84 si gioca sul campo del family club di selargeus per la serie b champions cup elite open pizzeria ancora a caccia dei primi punti sport time invece a caccia di conferme dopo essere partita piuttosto bene in questa nuova parte di campionato pani al nono minuto entra in possesso di palla vede la porta e la mette con un gran destro sotto l'incrocio lontano la formazione bianco rossa è in vantaggio la pizzeria i 4 20 reagisce scala spalla per sedda che da ottima posizione cestina così la palla che poteva valere il punto del pareggio qui mereu per doha che conclude a botta sicura si salva in qualche modo la retroguardia della formazione rosso blu con le immagini realizzate dal nostro andrew che du siamo al secondo tempo esattamente al minuto numero 33 quando mereu si invola entra in area e con un dolcissimo tocco sotto col destro realizza il 2 a 0 ancora lui un minuto più tardi su calcio di rigore oltre a realizzare la doppietta personale mette a segno il 3 a 0 per lo sport time 84 con il cronometro corriamo al minuto numero 38 si lotta a metà campo per la conquista del pallone i bianco rossi ne tornano in possesso palla che arriva per il solito polo mereu che andrà a realizzare il punto del 4 a 0 partita ormai chiusa tra l'altro gran gol quello dell'attaccante bianco rosso al minuto numero 41 il gol della bandiera della pizzeria i 4 20 viene realizzato da antonio scalas con questo bel mancino da appena dentro l'era di rigore al 43esimo secondo gol personale per pani con un bel destro dal limite lo stiamo osservando al 44esimo il poker personale di quello che il match winner di questa partita paolo mereu 6 a 1 per gli ospiti prima del triplice fischio occasione per la pizzeria i 4 20 con scalas che ci prova quasi dal fondo andando a impensierire a terra in due tempi andrea cancedda finisce così pizzeria i 4 20 1 sport time 6 i bianco rossi agganciano il secondo posto grazie a tutti grazie a tutti